Un Putin battagliero, quello che si presenterà al G20 di Brisbane in Australia, l'appuntamento di sabato tra le potenze mondiali e il nuovo terreno di confronto sulla questione ucraina e sulle sanzioni imposte alla Russia. Naturalmente ciò è contro i principi e le attività del G20 e non solo, contraddice anche le leggi internazionali perché le sanzioni possono essere introdotte solo nell'ambito delle Nazioni Unite, nel Consiglio di Sicurezza. Inoltre è anche contro i principi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e tutto ciò è dannoso, naturalmente lo è per noi in qualche modo, ma lo è anche per loro perché compromette l'intero sistema di relazioni economiche internazionali. Ma spero davvero e mi sto convincendo che alla fine un accordo verrà raggiunto e ci lasceremo tutto questo alle spalle. Nell'intervista rilasciata prima di partire per l'Australia, il presidente russo ha parlato anche della situazione di Rosneft, il colosso petrolifero in difficoltà proprio per le sanzioni occidentali. Non escluso possa ottenere aiuti statali, ma dovremo valutarne attentamente l'utilizzo, ha detto Putin.